Si è tenuto questa mattina a Monaco di Baviera con il coordinamento della sezione continentale europea della Federbasket internazionale il sorteggio dei gironi di Eurocup, svoltosi insieme a quello di prima fase di Eurolega nel novero della tradizionale riunione di inizio stagione dei club. La molisana Magnolia, posizionata nella terza fascia, è stata inserita nel girone L e il dodicesimo dei dodici di regular season, come secondo team nell'ordine della pole. Avevamo preannunciato nella giornata di ieri la possibilità di uno scontro con le squadre posizionate nella prima area, poiché da regolamento la Magnolia non avrebbe potuto affrontare nelle compagini inserite nella stessa fascia né tantomeno le altre italiane partecipanti alla competizione internazionale. Il sesso San Giovanni per l'appunto inserito nella quarta fascia né tantomeno Dinamo Sassari e Battipaglia in caso di successo di queste ultime nella fase di qualificazione. Inserite nel girone della Magnolia una squadra europea, una ungherese e per finire una squadra spagnola. Questo è il verdetto di questa mattina. Le avversali del russo-blu saranno il Foxis, l'Universitas Pex e la Spars Girona. Le 48 squadre sono state così divise in 12 gironi da 4 squadre ciascuna. Saranno ancora da stabilire le 3 che verranno sconfitte nelle qualificazioni di Eurolega e le 5 che vinceranno le qualificazioni di Eurocup. Un girone non semplice e con tante difficoltà. Questo è il primo commento di coach Sabatelli a seguito della pubblicazione del tabellone. Possibilità per le rosso-blu di confrontarsi con squadre di alto livello. Ad ottobre il via ad un percorso che si strutturerà su 6 giornate che porteranno sino alla chiusura della pool. Poi le migliori 2 di ogni raggruppamento e le migliori 8 terze entreranno nella fase ad eliminazione diretta con match di andata e ritorno che porteranno alla definizione di un tabellone che sfocerà nel match finale su due gare.